Dylan, un bambino di 9 anni di Newport, Regno Unito, è morto il 14 dicembre 2022 per shock settico causato dalla rottura dell'appendice. La tragedia è avvenuta pochi giorni dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso del Grange Hospital in Galles, dove era stato portato con dolori addominali. Il 2 dicembre Dylan aveva mostrato sintomi di malessere e vomito che si erano attenuati nei giorni successivi fino a diventare una lieve tosse. Il 6 dicembre dopo aver preso del Calpol ha iniziato a lamentarsi di un forte dolore addominale. Preoccupato il suo medico di famiglia lo ha fatto ricoverare in ospedale sospettando un appendicite. Tuttavia un praticante ha ritenuto improbabile questa diagnosi poiché il dolore era localizzato sul lato sinistro dell'addome, lontano dall'appendice. Samantha Aiden, un'infermiera pediatrica, ha visitato Dylan la sera del 6 dicembre notando linfonodi ingrossati e congestione nasale, ma i sintomi non sembravano chiaramente riconducibili a un'unica causa. Nonostante ciò Dylan è stato dimesso poco dopo l'una di notte del 7 dicembre con una prescrizione di Calpol e consigli per tosse e raffreddore. Poco dopo il bimbo è purtroppo deceduto per shock settico.